associazione asia e poi associazione ci raccontiamo disabili e familiari di una foto a queste due individue abbiamo ritrovato il fotografo si le ho fatte le ho fatte si si stai facendo filmini e stai facendo fotografi scusate noi facciamo filmini e facciamo contemporaneamente e facciamo i ragazzi nostri è bello questo fatto non c'è anche chi ti scende a fare ma spiegati facci una foto ai ragazzi con il Santo Padre usa il tutto attendiamo che la luce torna bene sentiamo i ragioni e dove assiede questa associazione la loro non lo so dove assiede la posta piano c'era piano c'era bene ci accostiamo molto bene ok continui vi auguro un e buon lavoro allora nel pubblico ci sono gli altri disabili dell'altra associazione vai a fare una benedizione